carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del Signore che risplende da sempre e risplende dovunque oggi particolarmente risplende nella famiglia la Chiesa ci fa celebrare infatti oggi la festa della Sacra Famiglia riunite dallo Spirito Santo, Maria e Giuseppe unite insieme da un vingolo da un vingolo dello Spirito consagrati l'un per l'altro nello Spirito Santo Giuseppe dà la sua vita a Maria Maria dà la sua vita a Giuseppe, Maria e Giuseppe danno la vita per Gesù nessuno di loro si appartiene, sono tutti consagrati a dare la loro vita, ad amare perché Dio è amore e ciò che esce dalle mani di Dio porta il segno del creatore che è amore e le sue creature quindi sono contrassegnate all'amore e sono finalizzate all'amore e tutta la nostra vita fratelli è un dono di grazia che viene dall'alto e nella famiglia noi abbiamo lo specchio l'immagine perfetta della Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo comunione d'amore dove c'è perfetta comunione, appartenenza e Dio ha creato la famiglia a immagine sua facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza dice la scrittura e quindi aggiunge e Dio maschio e femmina li creò perché questa distinzione? perché ognuno dei due è chiamato a far dono della propria vita all'altro a non appartenersi nella natura il marito è fatto per dare la sua vita alla moglie la moglie per dare la sua vita al marito e questa comunione di cuore non viene realizzata attraverso una passione, un istinto viene realizzata attraverso uno sviluppo spirituale attraverso uno sviluppo tale che porta la persona a non appartenersi più infatti nella nostra natura umana così come il Signore l'ha creata e come noi possiamo anche riscontrare abbiamo che il bambino da piccolo tende a pensare a se stesso provvedere a se stesso la propria sopravvivenza per questo qualunque cosa gli si mette in mano lui lo porta in bocca per dire devo mangiare, mi devo nutrire ma man mano che il bambino cresce si accorge che c'è un mondo attorno a sé e c'è anche una differenza infatti fino ai versi 12 anni si pensa piuttosto a se stessi si pensa alla propria vita ma poi c'è uno sviluppo quando la vita viene vissuta in modo corretto secondo i dettami della grazia di Dio verso i 15-16 anni il ragazzo comincia a pensare qualcuno fuori della propria famiglia se guardate i bambini delle medie prima e seconda media i maschi e le femmine non giocano insieme tendono a giocare tra maschi e tra femmine perché c'è una ricerca ancora della propria identità ma verso i 16 anni si ha questa tendenza ad andare fuori casa a stringere amicisi a inserirsi nella società ma non si è ancora in grado però di dare la propria vita per l'altro infatti il ragazzino di 16 anni quando vede la ragazzina di 15 anni non le dice io ti amo le dice tu mi piaci cioè dai gusto a me perché il suo cuore non è ancora sviluppato sufficientemente ma crescendo insieme si arriva verso i 24 anni dove si sente il bisogno di fare dono di non appartenersi più è quello che è l'istinto che c'è dentro ciascuna persona umana fare dono della propria vita ecco allora che si richiede una crescita armoniosa e lo Spirito Santo ci fa crescere in questo modo affinché non ci apparteniamo più il marito dice San Paolo è della moglie e la moglie è del marito i due non si appartengono appartengono e tutti e due generano perché la vita per natura sua si comunica si espande bonum est diffusivo un sui detto latino il bene si diffonde per natura sua ecco l'immagine di Dio allora nella famiglia fratelli il padre poi ha un ruolo il marito ha un ruolo nella famiglia la moglie ha un altro ruolo ma tutte e due svolgono quel ruolo per il bene dell'altro e insieme sviluppano i loro doni per il bene dei figli per esempio chi è che deve accudere ai bambini la madre la natura vuole che la madre che allatta il bambino che la nutre si prende a cura del bambino ma Dio non ha adottato la mamma soltanto dell'elemento nutritivo ha adottato la mamma anche di quel sesto senso che le permette di comprendere che ciò che il bambino attraversa per andare all'incontro l'uomo non si ritrova quelle doti può sviluppare studiare finché vuole ma non sono doti appartenenti alla sua natura appartengono alla donna per questo che il primo amore che il bambino sperimenta è proprio quello della madre già in stand in grimpa la madre il bambino ha colto sviluppa questo istinto dell'amore questo spirito di amore ecco allora fratelli nella famiglia noi abbiamo la grande sapienza di Dio e la scrittura ci presenta la creazione dell'uomo e della donna dice il signor dopo aver creato l'uomo facciamogli un aiuto che gli stia davanti che si appara a lui non uno diverso dall'altro e allora quando Dio crea la donna l'uomo esclama essa è ossa della mia ossa carne della mia carne la si chiamerà donna perché dall'uomo è stato tolto per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà la sua donna e due non saranno più due ma una carne sola una cosa sola ecco il senso del matrimonio la comunione d'amore che nella scrittura viene sancito con un patto il profeta Malachia quando rimprovera il popolo d'Israele per le sue malefatte dice un'altra cosa o da rimproverarti tu tradisci la donna della tua giovinezza a cui sei legato da un patto è importante quel termine patto perché il patto è un tipo di legame tra persone che fonde due vite in una per cui coloro che sono legati dal patto si appartengono l'una all'altro se due amici fanno un patto le loro vite vengono legate secondo lo spirito di amicizia quindi il matrimonio così come Dio l'ha creato è legato da un patto è il sacramento del matrimonio è la celebrazione del patto di amore di un uomo e di una donna Gesù sulla croce con noi ha fatto un patto ha legato la sua vita alla nostra lui ci appartiene noi possiamo recalamare la sua grazia la sua salvezza perché noi gli apparteniamo e lui appartiene a noi e loro sulla croce lui manifesta questo patto celebra questo patto adempiando tutte le promesse di Dio tutto è compiuto esclama e poi sancisce questo patto col suo sangue perché le promesse nel patto vengono ratificate da gesti significativi come quello che fa Gesù sulla croce verso il suo sangue anticamente chi celebrava un patto immolava degli animali si aspergì col sangue di quegli animali per significare ti sarò fedeli fino al sangue cioè fino alla morte e poi si andava a mangiare e si celebrava che i due erano diventati uno Gesù cosa fa prima di morire prende il pane e lo dà ai suoi discepoli dopo averlo benedetto dicendo prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi cioè mangiando voi questo cibo celebrate che tu e Gesù siete uno lui ha dato la vita per te sei legato a te in modo eterno e se tu sbagli se tu hai peccato lui non ti tradirà mai gli appartiene ecco l'eterna fedeltà di Dio fratelli di cui la famiglia è specchio ed è luogo naturale dove noi attingiamo questa realtà che sono confacente alla natura umana e infatti anche il bene dei bambini stanno a vedere papà e mamma che si amano papà che si prende cura della mamma e la mamma che si prende cura del papà e l'orduro che si prendono cura dei figli è un cerchio d'amore specchio della Santissima Trinità e oggi la chiesa fratelli ci chiama a tutti a gioire per la famiglia di Nazareth dove noi vediamo l'immagine perfetta della Trinità e ogni famiglia è specchio della Santissima Trinità la famiglia non si costruisce con le passioni con gli interessi con i tornaconti la famiglia si costruisce facendo dono di amore ma da parte di tutte e due allora il matrimonio è consacrazione del patto di amore e di vita tra gli sposi consacrazione del patto di amore che vuole che ci sia scambio della promessa ci sia sigillo di unità di reciproca appartenenza e il matrimonio cristiano viene sigillato col sangue di Gesù col sangue di Gesù infatti che si sposa in chiesa sigilla il proprio patto matrimoniale col sangue di Gesù e quindi chi profane il matrimonio per la chiesa profane il sangue di Cristo e questo è uno dei motivi per cui la chiesa toglie i sacramenti a chi non rispetta il patto matrimoniale e noi fratelli oggi non vogliamo richiamare impegni dove no guardiamo quella grazia che Dio ha infuso nel cuore umano nel costruire la famiglia tutta la grazia di Dio si manifesta faccio San Paolo vuol dire che il marito santifica la moglie la moglie santifica il marito i genitori santificano i figli altrimenti scrivi i vostri figli sarebbero impuri mentre invece sono santi padre grazie dell'amore che tu hai infuso nella famiglia umana oggi tanta confusa perché tanto tentata tanto deviata ma oggi nella famiglia di Nazareth tu ci fai rivedere ciò che tu hai creato la comunione santa gioiosa d'amore e di vita che nulla può spezzare quella comunione che non viene dai nostri meriti non viene dai nostri sforzi viene dalla tua grazia tu hai creato l'uomo perché faccio dono della sua vita e ognuno si realizza nel non appartenersi e la famiglia è il luogo dove l'amore trionfa dove l'amore si manifesta dove l'amore si vive dove l'amore si celebra D'Ergine Santissima oggi benedici tutte le famiglie tocchi il cuore di tutti gli sposi fa che ogni famiglia ritrovi la presenza divina in sé e viva secondo lo spirito santo quello spirito che ha animato la famiglia di Nazareth a Gesù che a Cana ha benedetto la famiglia dando il vino nuovo dell'amore trasformando la legge in amore a Gesù salga la nostra loda la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli Amen cari fratelli la grazia del Signore è con voi e ciò che Dio ha creato non si corrompe col tempo né le ideologie le possono deviare la grazia del Signore rimane per sempre Amen Grazie a tutti Grazie a tutti